Sapevi che esistono dei farmaci nati dall'unione tra tecnologia e natura? Anni di ricerca racchiusi nel palmo della mano. Non ci credi? Ehi Futura, parlami dei farmaci biotecnologici. Prodotti per la prima volta nel 1982. I farmaci biotecnologici sono realizzati attraverso meccanismi di produzione complessi e innovativi. È per questo che sono efficaci, sicuri e di qualità. Ehi Futura, se dirmi che tempo ci sarà domani? Ahem, quella è mia cugina.